Spero, amico milanese, tu abbia avuto modo di utilizzare i pota verbs che hai imparato la scorsa settimana Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanellina delle notifiche Conoscere i nostri pota verbs è un ottimo modo per potersi orientare nei dintorni di Lumezzane Le le imbanda alla farmacia? Potrebbe capitarti di imbatterti in una bresciana molto sofferente che sta dicendo il seguente pota verb Che male! Ho preso dentro lo spigolo! Tu che da brindisi sei appena giunto a Lumezzane potresti rimanere vagamente inebetito da un'espressione del genere Nulla di cui preoccuparsi Ho preso dentro deriva dal dialetto In origine sarebbe Ho già fatto un pigolo! Il significato è molto semplice Nessuno ha preso dentro nulla Semplicemente vuole dire Che male! Ho urtato lo spigolo Presta attenzione perché con la stessa valenza a volte viene utilizzata la parola, o meglio il verbo, picchiato Ho picchiato dentro nello spigolo Anche questo deriva dal dialetto Che male! Ho piccato dentro nello spigolo! E il significato ovviamente è lo stesso Che male! Ho urtato lo spigolo Se sei un po' imbranato sappi che una bresciana potrebbe apostrofarti con questo potaverb Tirati insieme che hai trent'anni Sta cercando trentenne un po' imbranato di aiutarti dandoti una scossa ricorda Qui siamo rustici ma siamo di buon cuore In dialetto sarebbe Dire t'ansè ma che te che trent'anni Lasciando perdere l'età che poco ci interessa Ecco cosa ti sta dicendo Datti una regolata Caro amico brindisino Non perdere l'occasione di tornare in spiaggia nel Salento con in tasca l'esclamazione Oh tu non hai idea che male! Stamattina giocavamo al mare col pallone Non vuoi che ho picchiato dentro la lettina della spiaggia? Donaci un like E se sei un fabbricante d'armi di lumezzane Suggeriscici altri potaverbs per le prossime puntate Sai che forse dovrei cambiare qualcosa nel canale YouTube? La testata, secondo te, darebbe qualche visualizzazione in più Tirati insieme Mi sorgo di bel che te darei che le ruirà le view